Non c'è un gioco in campo, quindi dovremmo perdere cosa succede con Giorgio Coltino con la nostra determinazione e l'effetto, e apprezzare l'approccio del gioco con la sua fiducia, ma con il stesso momento, con il rispetto della nostra comprensione perchè si muove il approccio del gioco, la squadra dovrebbe giocare come 0-0 al primo Il gioco è un gioco, ma non c'è un gioco, ma non c'è un gioco Non c'è un gioco, ma non c'è un gioco Non c'è un gioco Non c'è un gioco